In un momento come questo in cui il Paese è messo a dura prova per l'emergenza sanitaria del Covid-19 noi dobbiamo restare a casa perché è l'unico modo per arginare la diffusione del virus. Ma per fortuna c'è chi tutti i giorni è in prima linea per noi, negli ospedali. Sono medici, infermieri, operatori sanitari, ricercatori, donne e uomini che formano un esercito valoroso che combatte per noi tutti i giorni per aiutare la salute del Paese. Ma noi da casa possiamo aiutarli. La Regione Lazio ha disposto la trasformazione del Presidio Columbus del Policlinico Gemelli in una Covid-2 hospital regionale da affiancare allo Spallanzani. Verranno messi a disposizione nuovi letti di terapia intensiva, apparecchiature, personale specializzato per assistere i malati. È una lotta contro il tempo, ma è anche una lotta molto costosa. E noi possiamo contribuire con una donazione, anche piccola, ma far parte di questo importante progetto. Troverete tutte le informazioni su questo sito. È molto importante che cerchiate Sostieni Columbus Covid-2 Hospital. E mi raccomando, donate, perché è importante trasformare la paura, la paura che stiamo vivendo tutti in questi giorni, in solidarietà, perché vi sentirete subito meglio e soprattutto vi sentirete vicini a chi sta lottando per voi. Grazie di cuore. Una piccola donazione, ma anche non piccola. Dipende dal cuore, dalla tasca, ma donate. Grazie.